Che è? Che è? Che è? Sono io. Chi? È il calorezzo. Cucu? Eh, per te. Poi i panini ci ha portato stamattina, eh? Ah! Ah! Questo venerdà ci ha portato, la crociera. O che sta andando? Voto direttamente la crociera. Eh? C'è una bella venerdà di sol, eh? Eh, c'è una bella venerdà di sol, eh? Sono da l'ostante. Già sei usci un anno? No, ho già scusato a casa, ho immobili. Che fai? Ho già scusato a immobili. Eh? Noi dà... Chi si è dentro la droga direttamente. Polizia. Facciamo le trabasci e poi sta dimanato. No? No. 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 Non è capace di andare a faricare. No. La festa? Eh. Eppure venute. Scusami. No. Tu perché li scotolea così? Perché li scotoleare così? È un problema che è su. Capito? Non è capace di essere la decisione? No. No. È un problema che è un problema che èinker darüber. È un problema che è così.